Tanti governi europei stanno pensando un piano di urgenza per investire in quei paesi, investire intelligentemente per dare lavoro e educazione, queste due cose, i paesi da dove vengono quella gente, perché una cosa che senza offendere ma è la verità, nel incosciente collettivo c'è un motto brutto, Africa va sfruttata, e l'Africa è per essere esplotata, questo è nell'inconsciente, sono africani, sempre, terra dei schiavi, e questo deve cambiare con questo piano di investimenti, di educazione, di far crescere, perché il popolo...